Bella a tutti compagnia, bentornati con un nuovo video riguardo Battlefield 2042. Oggi ragazzi sono qui per parlarvi della nuovissima, bellissima, stupendissima, incredibilissima modalità chiamata Portal. Che vi dico sin da subito che sarà la mia modalità più giocata all'interno di questo nuovo capitolo. E il motivo lo capirete da soli. Innanzitutto mi voglio soffermare a fare un applauso ai Ripple FX Studios, i sviluppatori di questa nuova modalità, che sarebbe la ormai ex Dice Los Angeles, perché hanno realizzato un trailer di presentazione, secondo me, davvero spettacolare, soprattutto che ti rimane in mente perché ti fa capire l'essenza di questa modalità, ovvero la totale libertà da parte del player di crearsi la sua partita perfetta. Ma entriamo più nel dettaglio riguardo questa modalità Portal. Innanzitutto vi lascio qui sotto in descrizione il link del sito ufficiale per scoprire tutti i dettagli riguardo questa modalità. Ma effettivamente, che cos'è Portal? Perché, secondo i miei punti di vista, sarà il punto di svolta per la saga di Battlefield. Innanzitutto la modalità, come appunto già detto, è stata sviluppata da Ripple FX Studios, e consiste nel poter creare il proprio server personalizzabile, un po' come erano i community games di Battlefield V, semplicemente rivoluzionato al 200%, dove non solo troviamo i contenuti di Battlefield 2042, ma bensì, come avete potuto vedere anche dal trailer, troveremo i contenuti di altri tre Battlefield completamente rimasterizzati, ovvero Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 3. Sia ben chiaro che non avremo tutti i contenuti di questo capitolo, perché di fatti ci saranno solamente due mappe per ogni capitolo. Ad esempio, per Battlefield 1942 avremo le mappe Offensiva delle Ardenne e Alamein. Per quanto riguarda Bad Company 2 avremo Porto di Arica e Valparaíso, e per finire per Battlefield 3 avremo Confine sul Caspio e Canali di Noshar. Per quanto riguarda armi, veicoli e gadget, come conferma il sito, avremo oltre 40 armi da tre teatri di guerra, come ad esempio l'M1 Gara, il Panzersheck, il G3, l'M4116 e tanto altro. Oltre ovviamente a tutto l'arsenale al presente in Battlefield 2042. Per quanto riguarda i veicoli, anche qui ce ne saranno oltre 40, come ad esempio lo Spitfire, il bombardiere B-17, il Quad, il Little Board, ma anche guardando il trailer se ne vedono migliaia di altri, si vedono il vecchio Abrams, si vedono il Viper, Insomma, la maggior parte dei veicoli presenti nei precedenti capitoli li troveremo all'interno di questo portal. Per il fattore gadget ne sono confermati oltre 30, con il ritorno del MAV e il Radio Faro insieme al Defibrillatore e il Botteud. E qui ragazzi, capitemi, tutti i gadget con cui io potrò trollare su questo nuovo Battlefield. Già solo questo vi fa capire perché io amo questa modalità. Ci saranno un totale di 7 eserciti diversi delle varie fazioni dei precedenti capitoli, come ad esempio Regno Unito e Stati Uniti e Germania del 1942, Stati Uniti e Russi di Beckham Pari 2 e ovviamente Stati Uniti e Russia di Battlefield 3. E un'altra cosa che i nostalgici adoreranno di questa modalità è che in Battlefield Portal, come dice anche il sito, faranno ritorno ai ruoli assalto, geniere, supporto e ricognitori di Battlefield 3. Perché a tutti gli effetti voi in Battlefield Portal, tramite il vostro server, potrete impostarlo esattamente come era Battlefield 3 al suo tempo, con classi e arsenale prestabilito. Cioè, potete tornare all'epoca di Battlefield 3 dove il medico poteva utilizzare solamente i fucili d'assalto. E questo apre un mondo immenso per quanto riguarda l'iniziativa dei player. E vi spiego subito il perché, così da poter comprendere al meglio la bellezza che si cela dietro Battlefield Portal. Leggendo da sito, con Battlefield Portal vogliamo offrirti più mezzi possibili per creare l'esperienza di gioco di Battlefield in cui hai sempre sognato di giocare. E qui sotto vi fanno alcuni esempi di modifiche che potete effettuare all'interno del vostro server. Come ad esempio le fazioni. Per la prima volta nella storia della serie, vuoi combattere in diverse epoche di Battlefield e scegliere quali soldati, armi e veicoli portare in Battlefield. Vuoi mettere una squadra del 1942 a fronteggiare nemici con armi tecnologiche e moderne? Fate pure! Come infatti si vede nel trailer, i soldati della Seconda Guerra Mondiale combattono quelli di Battlefield 3 con defibrillatori e coltelli. Mobilità. Usando le impostazioni di Battlefield 2042, puoi disattivare o attivare la possibilità di mirare, sdraiarsi e molto altro. Questo perché, appunto, all'epoca, in 1942 e in Bad Company 2, non potevi sdraiarti. Dunque, non solo puoi usare questa opzione per togliere i maledetti camper di stessi negli angoli, ma anche solo per avere un server di puro Bad Company 2. Come infatti c'è anche scritto sul sito, ad esempio, se vuoi un'esperienza più simile a Battlefield 1942, puoi disattivare la corsa e la rigenerazione della salute. Per quanto riguarda l'arsenale, sul sito dicono, Sei stanco di essere eliminato dei fucili di precisione o fatto saltareare con carri armati? Puoi limitare le armi, i specialisti, l'equipaggiamento e i veicoli a cui i giocatori possono accedere nella tua partita. Cioè, capite perché questa modalità è aperta a chiunque, anche a chi non è ammante di Battlefield. Perché se tu vuoi crearti una conquista nelle vecchie mappe di Battlefield 3, senza veicoli, solamente col cecchino, ad esempio, tu puoi farlo. La cosa bella di Portal è quello che tu hai la totale libertà di scelta su come impostare il server, perché, adesso ci arriviamo, i server di Portal avranno uno scopo specifico, che adesso appunto vi spiegherò. Come ultima cosa troviamo la scala. Puoi controllare il numero di massimo giocatori per ciascun team e le armi a cui hanno accesso, creando un equilibrio caos a tuo piacimento. Perché non mettere 10 giocatori armati difficili a salto contro 50 solamente di coltello? Scatenati! Vedete, proprio il sito vi dà degli spunti su come potervi divertire, perché Portal è un'esperienza aperta, cioè tu ti crei quello che vuoi. E secondo me diventerà la modalità principale di questo Battlefield 2042, perché se tu un giorno entri e non c'è voglia di giocare nel multiplayer, o ti annoia giocare dopo due ore al multiplayer, puoi tranquillamente andare nell'hub di Portal e cercarti una modalità just for fun, come ad esempio solo coltelli, solo cecchini, nascondino, che cavolo ne so io. Altri esempi, ad esempio, li hanno fatti vedere durante l'Electronic Arts Play Live, dove hanno mostrato alcuni server creati dalla community, come ad esempio Proteggi il VIP, una modalità dove dovete proteggere una determinata persona e ogni volta che morivi, responavi con un arsenale completamente random. E in quel caso si vede distintamente che siamo nella mappa di Porto di Arika di Back Home Party 2, con i soldati di Battlefield 3 e Back Home Party 2. Altro esempio è la modalità Robotman, dove non mi ricordo esattamente quanti botteod devono scontrarsi contro un solo tank, dunque è una sorta bellissima di modalità sopravvivenza, che io vi giuro non vedo l'ora di giocare. Io letteralmente penso a mani basse, che appena il gioco uscirà io farò le mie prime 100 ore solamente su Portal. E arriviamo a come funzionano i server di Portal. Innanzitutto tutti i contenuti di Portal, cioè tutti i contenuti Back Home Party 2 di Battlefield 3 e di 1942, non saranno contenuti all'interno del download del gioco, ma bensì saranno all'interno di un server cloud. Dunque tutti questi contenuti non influenzeranno il peso di gigabyte del gioco, e per quanto riguarda i server avranno una funzione simile, ovvero, come detto anche sul sito, in Battlefield Portal impreccherà le esperienze a cui altri possono partecipare, con partite personalizzate o modalità predefinite come conquista, deathmatch, corsa e così altro. Anche per quanto riguarda Portal, quando tu crei un'esperienza, potrai aggiungere intelligenza artificiale per riempire i posti vaganti. Le esperienze community vengono create all'inizio di una partita e rimangono online finché l'esperienza ha giocatori attivi, ovvero che come succedeva nei community games, per tenere attivo un server personalizzato, deve esserci al suo interno almeno una persona, altrimenti si disattivano. Ma non vi preoccupate perché in Portal sarà possibile salvare i server e utilizzare il vostro piacimento, se dato il permesso. Nel senso che se io o voi creerete un server privato, ci sarà un'opzione per concedere un codice che un altro utente potrà utilizzare per scaricare il vostro preset della mappa e utilizzarlo o modificarlo a suo piacimento. Come dice anche il sito, alcune delle esperienze più creative e popolari saranno presenti nella playlist ufficiale del gioco, permettendo di trovare partite fantasiosi e divertenti subito all'avvio di Battlefield Portal. Cioè, capite perché io sono così tanto contento di questa modalità? Dal mio punto di vista DICE ha proprio pensato e detto. Questi si lamentano sempre di qualcosa. Ok, diamogli in mano noi tutte le cose per crearsi la loro esperienza perfetta, così non romperò più le balle. Perché veramente Ripple Effect Studios ha rivoluzionato il modo di dire riciclare. Perché sì, Battlefield Portal è un riciclo di vecchi preset e vecchi asset dei vecchi capitoli, quante volte sto dicendo vecchio. Ma non solo li hanno modernizzati mettendo in una nuova veste grafica, ma ci hanno costruito intorno una modalità che non si è mai vista d'ora all'interno di un FPS, da meno che io sappia. Portal al suo interno ha praticamente quattro giochi. E per finire parliamo del servizio live di Battlefield Portal. L'intenzione di sviluppatori di mantenere attivo tramite degli aggiornamenti in Portal, non solo per quanto riguarda regole e modifiche per i server, ma anche per contenuti, perché di fatti hanno già confermato che tutti i nuovi aggiornamenti di Battlefield 2042 saranno disponibili per i giocatori e i creatori all'interno di Battlefield Portal. Portal, ragazzi, a tutti gli effetti, è una modalità infinita, che a tutto tondo accontenta letteralmente chiunque, tranne chi vorrebbe dei respawn decenti, perché, vabbè, quello è Battlefield, nel senso che i respawn sono proprio un tocco di classe della saga sin da Battlefield 1942. Una modalità creata appositamente per gli amanti di Battlefield, sia per quelli come me a cui piace cazzeggiare, dunque avere la possibilità di creare server just for fun, solamente coltelli, botteod, caccialvip, nascondino e così via, oppure per i nostalgici che vogliono giocare al vecchio puro stile Battlefield Trap Company 2 o 1942. E per finire anche per quelle a piccola cerchia di persone che ancora credono nel competitivo di Battlefield, dunque anche per loro avranno la possibilità di creare dei server personalizzati con le proprie regole e creare il proprio torneo di holy sniper, rush o quel che l'è, senza contare il fatto che ancora manca l'appello a un'importantissima modalità di Battlefield 2042, ovvero Hazard Zone, che a tutti gli effetti, come io mi aspetto e come bene o male hanno anche già fatto capire quelli di DICE, sarà una modalità incentrata sul gioco di squadra, dunque quella fantomatica modalità che io ho ipotizzato che sia una sorta di Battle Royale, ma non con le meccaniche di un Battle Royale, ma che possa dare quell'incipit tra virgolette competitivo con un gameplay incentrato proprio sul gioco di squadra piuttosto che per il gioco di fazione. Ma solo aspettando scopriremo di che cosa si tratta. Davvero complimentoni ai ragazzi di Ripper FX Studios, questa è stata veramente una lettera d'amore ai fan di Battlefield. E se tutte le lettere fossero così, veramente datemene una ogni giorno, vi prego. Perché adesso ragazzi, parlandoci seriamente, quando ho visto per la prima volta il trailer di questa modalità, io stavo letteralmente per scoppiare a piangere e a rivedere le mappe di Back Company 2 rimasterizzate, cioè una cosa che non mi sarei mai aspettato. Detto questo ragazzi, questo video informazioni finisce qua, spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. In tal caso fatemelo sapere con un bel mi piace ed un commento dicendomi voi cosa ne pensate di questa modalità Portal. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete passati dal mio profilo di Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo in live stasera come ogni settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 20 oppure con un prossimo video sempre by Back Company Italy! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.